Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Traffico internazionale di farmaci scattano 18 misure cautelare nell'operazione condotta dal NAS di Latina e sviluppatasi in varie province, tra cui anche quelle di Napoli, Caserta, Avellino, Firenze, Milano e La Spezia. Oltre 100 i militari del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dei comandi provinciali interessati che sono stati impegnati dalle prime luci di questa mattina per finalizzare i 18 provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Latina. Covid-19, ancora 144 casi e zero decessi, quelli registrati nel bollettino dell'ASL di Latina nella giornata di martedì 23 marzo. Di questi, 66 sono i positivi al virus del Sud Pontino, dove si evidenziano ancora una volta i tanti casi a fondi, ben 32 a cui seguono i 12 di Formia. A livello provinciale i guariti salgono a 106 nelle ultime 24 ore. La Chiesa fa la sua parte nella lotta al Covid-19. La diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, su indicazione del Vescovo Mariano Crociata, infatti, ha reso disponibili alcune strutture edilizie ecclesiali non liturgiche per i programmi di vaccinazione. A renderlo noto proprio il Vescovo Crociata, che ha spiegato come l'elenco è stato trasmesso al direttore generale dell'ASL di Latina per le necessarie valutazioni. Drammatico incendio, quello che è stato registrato nella giornata di ieri a Sperlonga, in località Vallaneto. Sul posto si sono recati per domare le fiamme sia i vigili del fuoco di Terracina che i falchi del pronto intervento di fondi insieme agli uomini della Croce d'Oro di Sperlonga e la Fenice di Gaeta. L'incendio si è sviluppato non lontano dal lago San Puoto, al confine con il territorio del comune di Fondi, ad andare in fiamme ancora una volta la macchia mediterranea. Un pregiudicato di Formia è stato fermato in strada nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli sulla mobilità dei cittadini in zona rossa ed è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. La droga è stata rinvenuta dai poliziotti negli slip dell'uomo, mentre nelle tasche dei pantaloni l'arrestato aveva con sé circa 1700 euro di banconote di vario taglio, probabile provento di spaccio ed oggetto quindi di approfondimenti investigativi. Fermata dai carabinieri, una donna si rifiuta di sottoporsi all'etilometro ed insulta anche i militari e scatta così la denuncia. C'è quanto accaduto ai carabinieri di Gaeta che durante un normale controllo si sono imbattuti nella donna che arrivava ad oltraggiare anche i carabinieri con frasi offensive. Il tutto alla presenza anche del personale della polizia locale del 118 intervenuti sul posto. Un uomo di 60 anni di formia è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di violazione dei doveri inerenti la custodia. Nello specifico l'uomo era il custode della propria autovettura, oggetto di confisca per la successiva distruzione come disposto dalla prefettura di Latina, ma al momento della verifica i carabinieri si sono resi conto che l'uomo non ottemperava ai relativi obblighi, avendo consentito la dispersione del veicolo. Questa era la nostra ultima notizia, prima di salutarci vi ricordiamo che sul nostro sito web radiocivitemblue.it trovate tante altre news. Un saluto da Simone Nardone e a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.